Le entesiti e le datiliti sono tra le manifestazioni più importanti dell'artite psoriasica, quelle sulle quali è importante agire presto e agire bene. Qui a Vienna, al congresso dell'Eula, sono stati presentati due studi molto interessanti che si chiamano Keepsake, dove è stato valutato un farmaco di nuova generazione, il Risanchizuma, proprio per capire l'efficacia in questa condizione patologica. Noi ne abbiamo parlato con una vera esperta, con la dottoressa Eleonora Celletti. Dottoressa, quindi parliamo sempre di artite psoriasica, però focalizzandoci sulle entesiti e sulle datiliti, che sono due manifestazioni proprio tipiche di questa malattia. Ecco, se ci dice due parole su che cosa sono esattamente e soprattutto su che cosa significano per i malati. Sono due manifestazioni estremamente frequenti e rappresentate in artite psoriasica. L'interessamento entesitico è l'infiammazione dell'inserzione dei tendini a livello dell'osso. è spesso anche difficile da diagnosticare rispetto alle forme oligopo-articolari, perché i pazienti non sanno riconoscere questo sintomo che è associato a un'artropatia psoriasica, in questo caso un'inteso artrite psoriasica. Anche la dottoressa, invece, che è un'infiammazione di un singolo dito, che coinvolge naturalmente la guaina tendina e anche quella articolare, è proprio patognomonica dell'artropatia psoriasica. Sono molto spesso poi difficili da trattare, cioè le terapie convenzionali non funzionano su questo tipo di interessamento. Senta, qui all'Eula sono stati presentati i dati addirittura di due studi registrativi che prendono il nome di KIPSEIK, condotti con la risanchizoma, che è un farmaco di nuovissima generazione, un anti-interlochina 23. Ecco, di che studi si tratta? Giusto per capire un attimo cosa è stato fatto e poi vediamo subito i risultati. Allora, il KIPSEIK 1 e 2 sono gli studi registrativi per il risanchizumab. L'interlochina 23 è una citochina chiave nella patogenesi artrite psoriasica, quindi estremamente interessante il meccanismo d'azione di questo farmaco. Questi studi registrativi riguardavano due popolazioni diverse. Nel KIPSEIK 1 solo i pazienti che avevano avuto un fallimento alla terapia di fondo tradizionale, nel 2 erano inseriti anche i pazienti in terapia biotecnologica. I risultati del post-talk analysis che è stata presentata all'EULAR ci mostrano essenzialmente un'efficacia profonda e duratura nel ridurre e nel portare alla risoluzione l'entesidio della dattilite, a prescindere dal sito coinvolto e a prescindere dalla gravità della manifestazione clinica. Che considerazioni possiamo fare, dottoressa, a questo punto, tenendo conto di questi dati che sono veramente molto brillanti? Che sicuramente, se si diciamo di fonte a un interessamento entesitico o dattilitico, quindi è extra-articolare, l'interlochina 23 potrebbe rappresentare il meccanismo di azione chiave.